Nato a Bonn attorno al 1620, ma di origini italiane e forse veronesi, attivo come organista in San Marco a Venezia, poi maestro di cappella alla corte del principe di Bonn Colonia, il compositore Massimiliano Neri ci ha lasciato due magnifiche raccolte di canzoni e suonate per molti strumenti, andate purtroppo parzialmente danneggiate in tempi di guerra. Un importante lavoro di ricostruzione è stato fatto negli anni e ci permette oggi di dedicare una registrazione monografica a questo brillante compositore seicentesco. L'ensemble Concerto Scirocco esplora l'opera del Neri selezionando brani originali o ricostruiti il meno possibile spaziando da bellissime ed intricate canzoni a piccolo organico fino a spettacolari brani a doppio o triplo coro. Arricchiscono la monografia anche tre Mottetti, due del Neri ed uno della compositrice e cantante Caterina Gianni, sua moglie, della quale si sa poco se non che cantò la prima Callisto nell'omonima opera di Francesco Cavalli. Un cameo, quello dei brani vocali, affidato ai nostri amici e colleghi di lunga data Voce Suaves. Massimiliano Neri è davvero poco conosciuto rispetto ad altri suoi contemporanei ed è ora di riportare la sua figura alla luce in tutto il suo splendore grazie a questo ritratto sonoro. Grazie. 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 Grazie.